Ciao a tutti! Io sono Dory e io sono Babbo e benvenuti su Dory e Babbo! Oggi per la rubrica Impariamo con Dory e Babbo parleremo del coniglio. Iniziamo! Il coniglio è un grazioso animale dal corpo arrotondato e con lunghissime orecchie. Ha le zampe posteriori più lunghe di quelle anteriori, per questo è adatto al salto ed alla forza. Alcune curiosità! I conigli hanno una vista speciale e vedono tutto ciò che si nasconde dietro di loro. Questa vista di 360 gradi gli aiuta ad avvistare predatori da tutte le direzioni. Quando un coniglio è felice si comporta in un modo un po' folle. E gli inizia a fare il corso sprenate con tanto di salti in aria. I conigli sono vegani, non mangiano nulla di provenienza animale. I loro piatti preferiti sono frutta e verdura. E bisogna sapere che se vengono allevati in cattività o in casa, devono avere sempre a disposizione un bel po' di fieno. I denti dei conigli continuano a crescere proprio come le unghie. Purtroppo i conigli sono la terza specie di animali per numero di abbandoni. Prima di prendere un coniglio, è bene sapere che vive dagli 8 ai 10 anni. Quindi, se lo si vuole adottare, bisogna sapere che è un impegno molto importante. Special guest di questa puntata è il nostro coniglio, Ariete Tiziano Coriccino. L'ho portato a casa mio fratello circa 3 anni fa e si è subito ambientato in giardino. E adesso è un super amico della nostra Oca Penelope. Stanno sempre vicini. Proprio come me e te, sempre vicini i vicini. Non ci stacchiamo mai, va bene? Bello, amore di Babbo. Grazie a tutti per averci fatto compagnia fino a qui. E se non vi siete ancora iscritti a questo canale, iscrivetevi subito e cliccate la campanellina per non perdervi nessun altro nuovo video. E se questo video vi è piaciuto, lasciate tantissimi bei pollicini in su. Ciao!